Il romanzo era così divino, è bruciato e non può essere messo. Jay Gatsby, un carattere inventato dal scrittore americano Francis Scott Fitzgerald, è stato portato da due attori, Robert Redford e Leonardo DiCaprio. I due film, 20 anni dopo, uno da un altro, hanno un'interpretazione completamente diversa del matrimonio Gatsby. Nel novel, la descrizione del matrimonio Gatsby è molto corta e semplice nei dettagli. Il scrittore dirà che il chauffeur era uno dei sottotitoli, che si proteggono i sottotitoli. I due filmati si sentono liberi di immaginare la scena in un modo personale. in un modo personale. In 1974, Wilson va a casa di Gatsby, quando sta facendo una spazio nella palla, aspettando per una chiamata da Daisy. Gatsby si sentono sul matrimonio Gatsby, in un momento quieto, non capito del risultato. Wilson, credendo che Gatsby abbia scappato la sua isola, lo matta, ma avviene diversi sottotitoli, e lì si sottotitoli. Il matrimonio si trova dopo aver sentito la scena che avviene dal palla, trovando che Gatsby e Wilson si sottotitoli. in un video per il video. In 2030, Gatsby ci si avviene molto ansioso, ma spera che Daisy si chiama da te. In realtà, gli sottotitoli si rilassava il telefono all'interno del palla. Daisy si prende il telefono per chiamare, ma realizza che non vuole abbandonare la sua banda di casa e la poteva sotto il telefono. Allo stesso tempo, all'interno della città, Nick pensa di chiamare Gatsby. Gatsby è convinto che questo chiamato facile, in realtà è Nick che decide di chiamare. Wilson shoots Gatsby, che mora felice, con la credenza che il telefono si chiama con le daisie, ma non sa mai mai la vera. Wilson shoots Gatsby, che mora felice, con la credenza che il telefono si chiama con le daisie, ma non sa mai la vera. Gatsby, che mora felice, con la credenza che il telefono si chiama con le daisie, ma non sa mai la vera. Grazie. Grazie.